Adesso abbiamo uffici bianchi, tappeti verdi e robot con le stanze rossi, bandiera italiana proprio. Bobinano che è un piacere. Anche a me non è che dispiace il verde, dà un po' di colore alla stalla, però dopo devi contare che qua sopra ci c***ano le vacche, perciò diventa un verde mimetico. Le rassicurazioni della casa madre hanno fatto cambiare idea a Roberto e si può procedere al montaggio, forse anche in seguito alle considerazioni di Davide. I giovani agricoltori sono sempre pronti a stravolgere gli impegni con una pazza idea dell'ultimo minuto. Eccola qua, bello fresco. Come il wakeboard, una sorta di surf versione campagnola. La tavola da wakeboard normalmente va usata al mare oppure nei laghi, ma la parola normalmente l'ho cancellata da bocca volare. Davide, sono pronto. Il mezzo per il traino c'è, la tavola c'è, non resta che provare. Metti in tiro. Dai, oh, però anche qua che sei animali, animali morti. Parti. Adesso lo faccio volare, vedrai come tira. Vai, 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 vai! Organizzatevi per la festa. Partecipiamo anche noi. Questo è mio, ah. Questo è mio. Scusa, con una spesa del genere non ti è compreso. Questo è mio. Prima, prima me la... Prima mi... No, no! Sì, vai. Arrivederci. Sarà stato il canto delle sirene? O sarà per l'abilità di venditore dell'amico Michael? Fatto sta che un trattore sta per essere comprato. Pu quasi. Provo, provo a domandare a Marco... Quando hai fretta, l'assistenza è la più bella invenzione che esista. Ciao Marco, scusa se ti rompo e vai. Ascolta, non ho il versuro là, l'otto vomeni. Che se mette? Arriva a mettersi dritto, ma non scambia i pistoni, non va solo da che altra parte. Sì, chi ganna? Ciao, è da 32, giusto? Al telefono ci ha fatto fare vari tentativi sull'aratro, ma abbiamo scoperto che il problema è più a monte direttamente dal trattore. Buono, so al massimo. Butto e so tutto. Ok, risolto. Ora l'olio passa, partiamo ad arare.